Allora, bambini, abbiamo preso un'ascia e abbiamo buttato giù la porta e ci siamo trovati fiamme alte 10 metri. Una volta ho curato un alligatore di 2 metri. Io sono un'impiegata del ministero e mi occupo di buste paga. Grazie. Qual è il nostro obiettivo principale? Proteggere i cittadini senza che se ne accorgano. Stai mettendo a riventaglio 20 anni di carriera per vindicare i tuoi ex compagni di scuola. Allergie? Sono allergica ai gamberetti, proprio mi sento morì, tu dammi un gamberetto e io schiatto. Mi sento gonfia, c'ho la bocca gonfia, la lingua gonfia, la bolla gonfia, sono tutta gonfia. Perché tu e papà vi siete lasciati? Perché mamma e papà fanno tutti e due dei lavori troppo impegnativi. Lui sì, ma tu calcoli la tratenuta da conto. Si dice ritenuta da conto. Mi scusi, è un po' raffreddato. Dai, ci morro ciasto, ragazzini.